In questo appuntamento di Culturalmente Parlando ospitiamo il dottor Luigi Bitonti che è il presidente dell'Associazione Paidea. Insieme ad altre associazioni, insieme ai partiti politici della nostra città si sono riuniti per parlare della bonifica ma soprattutto per capire qual è la situazione che bisogna portare avanti anche con il contributo dei cittadini. Dottore Bitonti, l'Associazione Paidea è un'associazione storica della nostra città? Sono 40 anni che operiamo in questa nostra città di Crotone. I primi anni ci siamo occupati innanzitutto di organizzare convegni nell'ambito culturale con le grandi figure di Pitagora e Gioacchino di Afiore che ci hanno sempre ispirato facendo venire anche diversi docenti universitari non solo dalla Calabria ma anche dall'Italia. E da diversi decenni ci stiamo occupando di questo gravoso problema e settore dell'ambiente di Crotone. E logicamente parlando di ambiente a Crotone non si può che parlare di bonifica dei terreni vicini alle vecchie fabbriche e di tutto quello che è stata la conseguenza di circa 80 anni di attività di Pertusola e di Montedison. Ultimamente proprio a ridosso quasi di Ferragosta abbiamo sentito la necessità di riunire anche altre associazioni, anche rappresentanti di partiti molto sensibili a questo tema perché noi stiamo analizzando da diversi mesi col contributo di docenti universitari della Normale di Pisa, della Federico II e anche dell'Unical il progetto di bonifica che è stato impostato non solo da questa regione Calabria, da questo ultimo governatore ma anche dal precedente, dal Presidente Oliverio. E francamente siamo rimasti anche un po' meravigliati perché tutti gli specialisti del settore e in particolare il professor De Vivo della Federico II che è uno dei migliori chimici e geologi d'Italia ci ha fornito alcune indicazioni che vanno totalmente contro il fatto di trasferire i terreni inquinati e radioattivi delle vecchie fabbriche in altri luoghi tipo la vicina Columbo o anche portarli fuori da Crotone. Il perché di tutto questo ci ha meravigliato e abbiamo approfondito il dialogo con lo stesso docente napoletano il quale ci ha fornito dei suoi articoli, dei suoi interventi perché lui si è sempre occupato della bonifica di bagnole e la cosa che ci ha meravigliato è trovare un articolo dove c'è scritto che i 400.000 siti industriali dismessi degli Stati Uniti d'America vengono bonificati in sito e questo va certamente contro questa, anche contro le linee guida del Comitato Crotone fuori veleni perché dal punto di vista scientifico, tecnico e per tutto quello che avviene non solo negli Stati Uniti ma mi è stato detto da ingegneri crotonesi anche in tutta Europa, bonificano in sito questi terreni inquinati e radioattivi. Insomma si può evitare di portare fuori questi rifiuti che sono inquinanti e nello stesso tempo pericolosi utilizzando questo sistema quindi di fare in modo che questi rifiuti vengano in qualche modo messi nelle stesse fabbriche e poi con il cemento sopra diventano sicuramente, non sono più pericolosi, insomma non abbiamo più questo problema. Eh sì, noi abbiamo approfondito la problematica riferendoci alla fattispecie nostra della collina dei veleni che è lunga quasi 3 km e anche dei siti inquinati dell'Apertusola che rappresentano un grosso anche handicap per tutti i crotonesi. E ci è stato detto che per quanto riguarda la pericolosità di manipolare questi terreni per anni e trasferirli con camion, ruspe, bulldozer in altri siti, il pericolo maggiore è quello di sollevare polveri che i venti, e a Crotone li abbiamo quasi tutti, potrebbero trascinare su tutte le cose, su tutti i crotonesi ma anche sui cittadini della provincia di Crotone. Questo è il pericolo maggiore da evitare che ci viene indicato da questi quasi scienziati, esperti del settore, ingegneri nucleari, ingegneri diciamo del settore particolare che è quello del settore energetico ma anche da diversi geologi, inoltre stuzzicati e quasi insomma pungolati da questa nuova notizia perché noi non è che siamo del settore, siamo andati a ricercare diversi video del passato in cui le persone che sono occupate di bonifica come il signor Pino Greco che tu stesso hai intervistato in un video particolare dove faceva vedere le pietre di solforite che appena le binne le toccano scoppiano come bombe incendiarie e il signor Pino Greco che è presente anche fabbricando l'avvenire che è stato consulente dell'assessore Rizzo nell'amministrazione Oliverio e che ora si trova anche nel comitato fuori i veleni da Crotone proprio ad una tua intervista attestava e affermava che questa collina dei veleni con tutte quelle pietre che erano state sarcofagate in un primo momento con una colata di cemento e che negli anni con le mareggiate specialmente lato mare stavano sversando sulla spiaggia e nel mare fumando pure attestava che andavano sarcofagate e inertizzate in loco e allora le due cose combaciano sia i consigli, le opinioni, le raccomandazioni di tutti questi scienziati e ingegneri del settore sia di uno come Pino Greco che ha lavorato proprio nelle vecchie fabbriche che non mi ricordo se in Pertusolo o in Montelisi ma che anni e anni si è dedicato al discorso di far evidenziare anche nelle trasmissioni che hanno fatto con la Toffi delle Iene e anche con il Fatto Quotidiano si è dedicato continuamente a evidenziare questo gravissimo problema per la vita e la salute dei crotonesi e dei cittadini della provincia. Infatti dobbiamo dire che quando si alza il vento nella nostra città ed è costante la presenza del vento le polveri delle fabbriche arrivano dappertutto e infatti quello che preoccupa è il numero delle persone che puntualmente si ritrovano con una patologia tumorale e non solo adulti, non solo anziani ma anche giovani e bambini. Noi non parliamo diciamo a bambera, noi parliamo ed analizziamo la situazione nel suo complesso tenendo conto anche degli studi molto approfonditi che ha fatto l'Istituto Superiore di Sanità lo studio Sentieri che da più anni viene effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità e che attesta che la città di Crotone ma anche la provincia fa registrare delle percentuali altissime ma non solo di tumore e leucemia anche di malattie cardiovascolari, respiratori e polmonari, della pelle e mi vorrei assardare nel dire che nella città e nella provincia di Crotone ci sono molti bimbi che nascono diversamente abili. Allora io mi sono, come dire, sconfrontato con tutti questi docenti ed esperti e loro mi hanno indicato anche le tecniche che dovrebbero, che sono usate in tutta Europa e anche nel mondo per poter arginare questo inquinamento terribile dei terreni inquinati. Quindi ci sono delle proposte che possono essere analizzate perché chiaramente noi non ci sostituiamo a chi deve fare la bonifica però dare dei suggerimenti è fondamentale e quindi queste tecniche che possono essere messe in atto potrebbero evitare quindi non solo il fatto della polvere che si solleva ma potrebbe anche evitare gli spostamenti e quindi fare questa bonifica non più in tempi lunghi ormai sono 30 anni che aspettiamo questa bonifica ma velocizzare i tempi per una città che recupera dal punto di vista ambientale. Esattamente sono tecniche consolidate. Allora per quanto concerne il problema della collina dei veleni specialmente lato mare dove ci sono gli sversamenti giornalieri di questi materiali tutti quanti hanno indicato le palancole in acciaio da immettere fin sotto i fondali con anche un sistema di vasche di drenaggio in cemento che potrebbero accogliere l'eventuale dragaggio dei due porti di Crotone perché sai benissimo che sono anche il Porto Vecchio e il Porto Nuovo sono insabbiati dalle continue sabbie che vengono portate dall'Esaro e con questo sistema che anche Eni, io ho potuto leggere l'ultimo decreto del Masa di Agosto anche Eni afferma che in caso di difficoltà si ricorrerà alle paratie in acciaio quindi ci sono questi sistemi per far fronte alla problematica del lato mare e della collina dei veleni per quanto riguarda i terreni inquinati di Pertusola e delle altre fabbriche la stessa sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato Eni Reguinde indica la fiamma a 5.000 gradi per inertizzare i terreni ma poi ci sono tecniche di inertizzazione, solidificazione che l'ingegnere Iorio di Napoli chiamato dal ex povero consigliere Facino a dare un supporto nel suo progetto per la bonifica di crotone indica proprio l'inertizzazione e la solidificazione con metodi chimico-fisici che praticamente renderebbero inoffensive tutti questi terreni al di là di quelle tecniche di fittorimediazione che si trascinano da tanto tempo e che hanno un'applicazione molto lunga nel tempo ci sono tecniche efficaci per rendere inoffensivi questi terreni inquinati e ripeto non solo inquinati ma anche radiattivi da matrice di tenor ma e non, cioè da scorie di lavorazione industriale Questi progetti dovrebbero in qualche modo essere presentati e fatti conoscere all'amministrazione comunale, provinciale e regionale? Noi ci stiamo sforzando di dialogare con tutti quanti anche col Presidente della Regione Calabria, Dottor Filippo Mancusi non solo col nostro sindaco, col Presidente Ferrara e col Vice Presidente della provincia perché oltretutto solleviamo un problema logistico se si vogliono portare queste migliaia di tonnellate di terreni inquinati a Columbra noi non siamo supportati da una strada o da strade o da più strade che possano consentire la viabilità normale di noi crotonesi noi abbiamo e lo conosciamo benissimo questo tratto di 106 dal Passo Vecchio fino al Bibbio di Cutro che è già ingolfato da un traffico pauroso ho sentito dire che si potrebbero fare delle alternative mandando il traffico sulla strada delle Spighe poi facendolo passare per la parte nord dell'area industriale e sbucare al Bibbio di Papanici mi sembra una cosa del tutto assurdo e fuori la norma ecco che la bonifica in sito che si fa in tutto il mondo eviterebbe tutti questi altri pericolosi inconvenienti che renderebbero diciamo crotone prigioniera da tutto questo traffico Dobbiamo dire il Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso conosce la nostra realtà quindi potrebbe essere anche il suo contributo un contributo importante per uscire da questa situazione così critica L'appello è diretto anche a lui perché lui per parte di madre la mamma è crotonese so che è una calvo quindi è persona molto sensibile è persona anche molto legata a Crotone e al territorio crotonese l'appello lo facciamo anche a lui oltre che al Presidente della Calabria Roberto Chiuto al Presidente Ferrari al Sindaco Voce affinché rimodulino questo metodo di bonifica delle vecchie fabbriche Rimodulare questo sistema significa abbreviare i tempi lo abbiamo detto, lo continuiamo a dire per quanto riguarda la bonifica è nello stesso tempo una maggiore tutela per i cittadini però ecco come mai ci ritroviamo di fronte a progetti che vengono proposti sempre o a tavoli istituzionali in cui si diceva bene no i rifiuti a Crotone quindi si guarda sempre fuori per andare a portare i rifiuti noi sappiamo che in Norvegia che in Svezia ci sono delle discariche che prendono questo tipo di materiale e quindi già si pensa a questo ma in realtà bisogna dire che si devono trovare delle soluzioni che siano soluzioni non dannose per Crotone e cittadini e quindi bisogna che ci sia quel senso di responsabilità da parte di tutte le istituzioni Esatto, noi non neghiamo che magari ci siano altre discariche all'estero o nella stessa Italia, nel Piemonte eccetera ma non è questo il punto del problema il punto del problema come hai detto molto bene e specialmente per l'associazione Paideia è quello di mettere al centro la tutela la salvaguardia della vita, della salute e dell'ambiente dei crotonesi noi non abbiamo altri scopi io parlo molto chiaramente a noi non interessa diciamo obiettivi partitici andarci a presentare a elezioni eccetera eccetera il nostro scopo primario è che dovrebbe essere lo scopo di tutti i genitori crotonesi per i propri figli e anche nipoti è quello di tutelare i beni fondamentali dell'uomo la vita, la salute e l'ambiente di crotone e quindi guardiamo a questa metodologia che viene usata, ripeto, in tutto il mondo a quella metodologia che è la migliore per evitare sollevamento di polveri radioattivi e inquinanti ingolfamento di traffico e cercare di dare anche in tempi brevi perché c'è la possibilità nello stesso tempo in cui si fa la bonifica quella di andare a dragare il porto vecchio il porto nuomo di mettere questi terreni inquinati nelle valsche di colmata che nascerebbero dietro la rete di palancolo in acciaio che andrebbe fin sotto in fondale e si dovrebbe irregimentare anche l'acqua di falda che molti tecnici mi hanno detto che non supera i 20 metri quindi c'è tutto un discorso completo che si andrebbe a fare per rendere vivibile la vita nella città di crotone come pure prendo occasione di questa intervista per dire al sindaco al presidente della regione di rinnovare la rete fognaria che va dalla Casa Rossa fino a Crotone perché ci sono continui sversamenti di fogni è una rete fognaria progettata agli inizi degli anni 70 cioè oltre 50 anni allora tutte queste diciamo precauzioni possono dar vita a progetti finanziati con i fondi del PNRR ma anche con fondi statali, regionali, europei per far sì che noi possiamo stare tranquilli per i nostri figli e per i nostri nipoti anche quando fanno il bagno nel nostro bellissimo mare e poi aggiungiamo a questo che dopo i fuochi dell'Enichem a cui c'è stata una partecipazione molto numerosa di cittadini delle famiglie insomma c'era veramente quel senso di appartenenza a questa città perché va bene si difendevano i posti di lavoro però in realtà la città è scesa in piazza con grande voglia di dare un segnale anche alle istituzioni io credo che di fronte a questi problemi che attanagliano Crotone di fronte a questi problemi che riguardano la bonifica che riguardano il mare che riguarda tutto quello che abbiamo detto fino ad ora c'è necessità che i cittadini diventino protagonisti per far sì che si scelgano le soluzioni migliori per una città che ha bisogno di recuperare sotto tutti i punti di vista io c'ero in quel periodo ero ai primi anni di università ho partecipato mi ricordo di un mio collega Pasquale Gallo che incitava i cortei studenteschi in un certo senso a recarsi verso le fabbe e dice bene all'epoca Crotone aveva un senso civico molto sviluppato senso civico sviluppato perché l'attività anche dei partiti dei sindacati di tutti quelli che lavoravano nelle fabbriche avevano fatto sentire un senso comune di appartenenza alla città di Crotone questo stesso senso comune deve rinascere nei cittadini crotonesi lo so che ci sono tanti forestieri che lavorano qui per oggi giorno diciamo siamo nello stesso millennio dobbiamo avere anche una visione diversa di sviluppo per la città di Crotone e per tutta la sua provincia e noi personalmente ci sentiamo di dire che un volano per fare sviluppare diversamente Crotone e farla diventare città universitaria allora in tutto questo che stiamo noi dicendo in realtà emerge anche proprio questo quel significato di essere una comunità di essere uniti di guardare tutti nella stessa direzione perché se pensiamo ai giovani che se ne vanno ai giovani che hanno necessità di andare a studiare fuori perché magari sperano in una carriera importante no? ed è giusto che sia così è chiaro che Crotone ha necessità di avere delle risposte per l'ambiente delle risposte anche per quanto riguarda la salute ma facendo riferimento all'università ecco l'università è un altro punto per una città diversa e non puoi che aprire una porta aperta lo sviluppo e la visione di sviluppo per la città di Crotone per i suoi abitanti ma in particolarmente per i giovani studenti e anche i giovani lavoratori non può essere che quella che c'è stata diciamo 2500 anni fa indicata alla grande scuola pitagorica perché la grande scuola pitagorica è stata la prima a fondare un'università sapienziale in occidente da unire anche a quella grandissima scuola di atletica che c'era qui a Crotone alla grande scuola medica di Acmeone e Democede e allora io lancerei questo messaggio noi non possiamo pretendere qui subito a Crotone l'istituzione di una università ordinaria in presenza anche perché cozzeremmo e io non ho peli sulla lingua con gli interessi più che giusti delle università della Calabria di Arcavacata e con l'università della Magna Grecia però proprio seguendo le vocazioni della città e del suo territorio noi potremmo richiedere un'accademia di Belle Arti un conservatorio musicale una facoltà di Agraria una facoltà di Scienze Biologiche l'ITS l'Istituto Tecnico Superiore con otto specializzazioni si potrebbe avere un istituto superiore di Scienze Motorie l'Ex-ISEF si potrebbe chiedere proprio ad Eni così come ha fatto in tante altre città come a Ravenna negli Abruzzi in Basilicata nelle Puglie un centro ricerca per energie rinnovabili noi abbiamo diciamo a disposizione un fabbricato l'ex consorzio universitario di Crotone sull'inizio della via per Papanice che è circa oltre 3.000 metri quadri era stato ristrutturato nel 2005 adesso c'è il problema del cortile che è pieno di tenor e l'attuale commissario della bonifica generale si è dichiarato disponibile a bonificarlo quindi quale migliore occasione per cercare di fermare l'esodo specialmente dei giovani perché un giovane su due va via per motivi di studio per motivi di lavoro e quale futuro possiamo avere in questa città se facciamo andare via la migliore energia che è quella rappresentata dai nostri giovani e giovani lavoratori allora queste sono le diciamo le occasioni di poter formare di fermare questa fuga decennale di poter favorire anche la nascita di nuovi posti di lavoro perché non è solo nell'ambito dell'energetico e dei rifiuti che si possono creare e poi non se ne sono creati grandi posti di lavoro ma ci sono tanti altri settori anche di tipo industriale che Confindustria a Crotone dovrebbe favorire qui a Crotone come sta favorendo a Bibbo Valencia a Corigliano Rossano a Rende e questi sono diciamo gli input che ci sentiamo di lanciare verso gli amministratori i politici di qualsiasi livello regionale provinciale comunale perché dobbiamo dare una speranza di futuro e di sviluppo alla nostra città e al nostro territorio e solo facendo diventare insieme a degli altri settori ecocompatibili la nostra città una città universitaria potremmo incaminarci su questa via di speranza sì però ecco tornando a Monti diciamo che tutto questo si può realizzare anche guardando alla bonifica cioè pensando di fare in modo che anche quelle strutture che adesso sono ferme strutture industriali che sono ferme che non sono state usate c'è stato un periodo in cui io dicevo che c'era una parte di una delle strutture che poteva essere un segnale un monumento no? perché la storia è storia Crotone era l'isola felice Crotone oggi è l'isola infelice allora voltando pagina si può pensare di mettere insieme diversi progetti partendo dalla bonifica per una città che restituisce dignità salute e impegno a questa nostra realtà perché Crotone ha tanto da mettere in mostra è una città bella pensiamo al mare che fa parte dell'area marina protetta pensiamo alla nostra storia ai nostri reperti archeologici abbiamo tutto non ci manca niente quello che manca è un progetto comune coinvolgendo tutti quanti per dare a Crotone un'immagine diversa un'immagine in cui può uscire positivamente e può essere anche al centro dell'attenzione di tanto turismo che non dovrebbe essere solo estivo ma tutto l'anno anche qui mi stuzzichi molto perché sono quarant'anni che cerco di indicare i tesori anche che noi abbiamo nella città e nel territorio a tal proposito vorrei dire noi non dobbiamo andare molto lontano per trovare degli esempi di diciamo utilizzo delle aree industriali dismesse c'è Bagnoli che sta pensando a creare una specie di museo di tipo industriale e per le migliaia di tifosi di calcio io indico un altro terreno dove si dovrebbe costruire il nuovo stadio sono i 20 ettari dell'ex rossi tranquilli di proprietà di Enere e Quind che non sono inquinati e che sono a fianco della statale 106 20 ettari cara dottoressa Giuse sono talmente tanti che si può pensare a un nuovo stadio a tutto quanto il parcheggio eccetera eccetera ma poi questa visione di sviluppo e di utilizzo anche di terreni vecchi industriali si deve coniugare con l'agriindustria col turismo con l'agricoltura con la zootecnia e poi abbiamo tesori immensi dal punto di vista archeologico Capocolonna e sono più articoli che io ho scritto deve essere immediatamente messa in sicurezza perché c'era già un progetto della regione Calabria di 2 milioni di euro per circondare diciamo mettere barriere in ferrociamento intorno al promontorio di Capocolonna che rischia di spropondare fra qualche anno sperderemo sia la chiesetta e anche la statua allora sollecitare la regione Calabria agli enti territoriali e locali affinché questo progetto venga presto messo in opera e venga anche rifinanziato con fondi maggiori Capocolonna è un promontorio sacro è un promontorio che è conosciuto in tutta Europa Capocolonna è una storia tu me la insegni millenaria dove tutti i popoli italici venivano a onorare la grande idea della terra che poi attraverso i secoli si è modificata con la nostra madonna di Capocolonna noi siamo al termine di questo appuntamento grazie per la presenza perché comunque è un appuntamento diverso da quelli soliti parliamo di una cultura che riguarda tutti mi riferisco alla cultura della bonifica alla cultura del rispetto delle regole alla cultura di essere una comunità che difende il proprio territorio e la propria città e che a sostegno di tutto questo cerca di in qualche modo di coinvolgere le istituzioni perché finalmente si faccia una bonifica scegliendo come ben diceva il dottore Bitonti nuove tecniche e non pensando solo al passato e poi anche la cultura l'università si parla a Crotone dell'università di medicina e già questo è un progetto però mettere insieme altre facoltà significherebbe rendere questa città una delle città più belle non solo della Calabria ma d'Italia perché tutto quello che noi abbiamo è veramente tanto tanto importante quindi grazie a Luigi Bitonti e grazie a voi amici telespettatori per averci seguito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.